Ho bisogno di un aiuto, un aiuto perché sto impazzendo con voi due, sto impazzendo. Il mondo degli animali è un mondo magico, meraviglioso, un mondo che scopriremo insieme, cani, gatti, conigli, cavalli, ma non solo, pappagalli, uccelli, pesci, animali esotici, tutto questo e forse anche qualche leone, non si sa mai, prossimamente su Ultima TV con Animali, che passione!